Abigail, me ne sto andando, eh? Vado un attimo a fare la sera. E più o meno tra quanto torni? Torno tra un paio d'ore, perché c'ho da fare un sacco di cose. Va bene. Ok. Pronto, Mirko? Sono da sola a casa. Puoi venire? Abbiamo un paio d'ore. Amiga lì! Un paio d'ore per studiare matematica. Un paio d'ore per studiare matematica.